Siamo tornati dalla donata di Trento un po' ramaricati perché a mio marito venerdì hanno rubato il portafoglio. Denuncia fatta. Siamo rientrati a casa un po' sballottati e ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava. Inizia così il racconto di una donata davvero sfortunata, quella dei coniugi canciani di Musano, che dopo il furto del portafogli a Trento hanno scoperto, rientrati a casa, che i ladri avevano svaliggiato l'abitazione. Forse i malviventi sono stati disturbati perché hanno messo a suo quadro solo due stanze, la camera da letto dove hanno rubato alcuni monili d'oro e lo studio della signora Paola portandosi via al computer. Lo che mi dispiace di più è il mio hard disk. Quello mi ha fatto piangere, nel senso che là dentro io ho tutte le mie cose, le cose dei volontari di protezione civile, degli alpini, di cui fa parte il mio marito il gruppo. Vent'anni di vita archiviati pazientemente, fotografie, ricordi, materiale vario, senza valore, tranne quello immenso che hanno per questa famiglia che li porta nel cuore, di cui l'appello ai ladri. Io vorrei chiedere, non mi interessa il resto, ma quello sì, avrei proprio voglia, desiderio che mi venisse restituito.